carissimi ragazzi e ragazzi in ascolto e voi tutti ascoltatori di Radio Buon Consiglio sintonizzati ora e sulla radio Ave Maria e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata di Spazio Giovane vi parla come sempre di Leonardo Maria Pompei che vi ricorda che stiamo affrontando un ciclo di catechesi dedicato alla scoperta del mistero, del regno della divina volontà un mondo meraviglioso, splendido e basato sulle rivelazioni fatte da nostro Signore Gesù Cristo, la serva di Dio, Luisa Piccarreta e che ci vede giunti già a un buon punto abbiamo cercato di focalizzare i primi due passaggi fondamentali della manifestazione, della rivelazione della divina volontà tecnicamente chiamata in questo mondo il Fiat il Fiat Supremo, il Fiat Divino, come preferiamo e nelle prime due fasi del Fiat cosiddetto sempre tecnicamente creante e il Fiat redimente se ricordiamo bene questo vocabolario un po' tecnico con cui però è necessario familiarizzarsi per entrare bene dentro gli scritti di Luisa la puntata di oggi ha un po' la funzione di essere cerniera perché adesso, dalla prossima volta e voi capite che questo ciclo di catechesi è un ciclo di catechesi sintetico che ha lo scopo di farsi un'idea di questo mondo è evidente che poi, questo è nulla, fatta un'idea che ci siamo di questo mondo poi è necessario prendere gli scritti in maniera sistematica come vedremo e cominciare piano piano a muovere i primi passi per chi lo desidera e ad entrarsi in questo mondo tutto divino e che cominceremo a conoscere un po' meglio per quello che riguarda noi, si spera, dalla prossima puntata quindi oggi vorrei chiudere il discorso con l'aiuto del Signore sulla Divina Volontà come si è manifestata nell'opera della Redenzione il cosiddetto Fiat Redimente e introdurci già alla terza parte della manifestazione del Poer Divino che è appunto il Fiat Santificante il Fiat Santificante che, diciamo così, in un certo senso ha già preso origine in un certo senso ecco il giorno di Pentecoste cioè nel momento in cui lo Spirito Santo che ha appunto il compito di santificarci è sceso sulla Chiesa e ha trasmesso la grazia che è il primo dono che il Signore ci ha ottenuto grazie alla Redenzione agli Apostoli rendendoli capaci di adempiere la loro missione però ecco questo Fiat Santificante come vedremo ha un compimento pieno cioè il Fiat Santificante non è altro che la volontà di Dio di riportare evidentemente non in maniera identica perché è impossibile estante la presenza del peccato originale ma riportare l'uomo ad una condizione di vita in tutto simile questo almeno ci è consentito di dirlo a quello che avevano i nostri progenitori prima della caduta quindi è una sorta ecco mi si passi questa espressione poi piano piano impareremo a a rettamente intenderci quindi a non farci idee strane né illusioni spirituali però è così di fatto è una sorta di rinnovato paradiso terrestre ripeto rinnovato paradiso terrestre che tiene conto però della condizione dell'uomo decaduto però è rinnovato paradiso terrestre vero quindi perché il nostro signore il fine ultimo della redenzione non è semplicemente restituirci la grazia santificante e quindi fare una vita buona qui e poi passare per la morte la purificazione post mortem la visione beatifica dell'anima e poi la risurrezione della carne che è già stupendo insomma per come eravamo ridotti ma il fine ultimo dell'opera della redenzione è riconsentire agli uomini che si apriranno a questo dono di avere in questa terra il dono della divina volontà che significa cominciare a vivere una vita realmente divina e felice da qui ecco questa cosa per esempio i nostri fratelli della chiesa d'oriente gli ortodossi quando uno studia teologia in seminario si vede che loro sono sempre stati da sempre molto più attenti capite che l'opera di di redenzione che ha operato Gesù per noi ha due aspetti uno negativo e uno positivo tutti e due vengono trasmessi contestualmente nell'atto della giustificazione del peccatore sapete anche qui poi c'è il mondo luterano che ha fatto altre questioni su questa su questo argomento no la giustificazione del peccatore che cos'è è la distruzione del male quindi il perdono dei peccati e l'infusione della grazia santificante la vita nuova in Cristo che tende a rinnovare la partecipazione alla natura divina e alla vita divina attraverso la grazia santificante dell'uomo che questa grazia l'aveva persa col peccato e fino alla retenzione di grazia santificante su pianeta terra con l'unica eccezione di Maria Santissima non se ne parlava o rarissime San Giovanni Battista quasi certamente la grazia ma San Giuseppe tutte quante persone strettamente connesse in maniera diretta e immediata con Gesù come anticipi come prodromi d'accordo ora gli orientali hanno sempre calcato la mano a differenza di noi latini occidentali sulla divinizzazione dell'uomo quindi su questo grande dono che Dio fa all'uomo non semplicemente di togliere i peccati ma di elevarlo ad una vita superiore ecco in realtà l'ingresso nel fiat santificante quindi il dono della divina volontà porta al massimo compimento possibile per l'uomo in stato di natura decaduta come siamo questo dono questa possibilità cioè di trovare un'unione con Dio talmente forte talmente grande da essere fusi con lui come vedremo in stato veramente di fusione non più due volontà ma una sola volontà che è quella umana fusa con quella divina agente ed operante quindi questo è un po' l'orizzonte di quello che ci attende ora per chiudere l'argomento con voi volevo oggi leggere un altro scritto perdonatemi condizioni di salute proprio ottimalissime che è 17 gennaio 1921 dal volume 12 che è un po' una sintesi ripeto di quello che abbiamo del percorso fatto fino adesso e al tempo stesso una cerniera che ci collega diciamo un pochino più lungo e che ci attende appunto il regno del fiat santificante scusate abbiate pazienza che ecco bene comincio la lettura è sempre Gesù che parla e dice il fiat è tutto pieno di vita anzi è la stessa vita e perciò dall'interno del fiat escono tutte le vite e tutte le cose dal fiat mici della mia mamma detto nel mio volere scusate ho saltato un rigo dal mio fiat uscì la creazione perciò in ogni cosa creata si vede l'impronta del fiat dal fiat mici della mia mamma detto nel mio volere che ebbe la stessa potenza del mio fiat uscì la redenzione sicché non c'è cosa nella redenzione che non contenga l'impronta del fiat mici della mia mamma anche la mia stessa umanità i miei passi le mie opere le mie parole fate attenzione poi ci torneremo commentando sono suggellate dal fiat mici di lei le mie pene le mie piaghe le spine la croce il sangue portano l'impronta del suo fiat mici perché le cose portano l'impronta dell'origine da cui sono uscite la mia origine nel tempo fu dal fiat dell'immacolata mamma perciò tutto il mio operato porta il segno del suo fiat mici attenzione ancora sì che in ogni ostia sacramentale c'è il suo fiat mici se l'uomo sorge dalla colpa se il neonato è battezzato se il cielo si apre per ricevere le anime è il fiat mici della mia mamma che segna segue e provvede a tutto o potenza del fiat lui sorge ad ogni istante si moltiplica e si fa vita di tutti i beni ora voglio dirti perché ho chiesto il tuo fiat il tuo sì nel mio volere la mia preghiera è insegnata il fiat il fiat voluntas tua sicutinceret in terra questa preghiera di tanti secoli di tante generazioni voglio che abbia il suo esaudimento e compimento ecco perché volevo un altro sì nel mio volere un altro fiat contenente la potenza creatrice voglio il fiat che sorge ad ogni istante che si moltiplica a tutti voglio in un'anima il mio stesso fiat che sale al mio trono e con la sua potenza creatrice porta in terra la vita del fiat come in cielo così in terra il primo fiat fu detto nella creazione senza intervento di alcuna creatura e scelsi la mia mamma come compimento del secondo fiat ora a compimento voglio il terzo fiat che farà completare la gloria l'onore del fiat della creazione e sarà conferma e sviluppo dei frutti del fiat della redenzione questi tre fiat adombreranno la sacrosanta trinità sulla terra ed avrò il fiat volontas tua sicut in cielo et in terra questi tre fiat saranno inseparabili l'uno sarà vita dell'altro saranno uno etrino ma distinti tra loro il mio amore lo vuole la mia gloria lo esige che avendo sprigionato dal seno della mia potenza creatrice i primi due fiat vuole sprigionare il terzo non potendo più contenere il mio amore e questo è per completare l'opera da me uscita altrimenti l'opera della creazione e della redenzione sarebbe incompleta ragazzi e ragazze carissimi che state ascoltando per commentare questo scritto adeguatamente penso che ci vorrebbero diverse puntate di spazio giovane ecco io chiedendo perdono a Gesù e anche a Luisa insomma che sono coinvolti nella redazione di questi scritti cercherò di farlo in questa puntata però è veramente che il Signore e lo Spirito Santo la potenza del fiat mi aiuti perché ci sono dei passaggi fondamentalissimi e davvero a mio avviso questo brevissimo scritto anche alla luce di quello che abbiamo fatto fino adesso è quanto mai chiarificante diciamo così delucidante per comprendere dinanzi a cosa stiamo allora abbiamo visto che la Divina Volontà si manifesta fuori di sé quello che dentro di sé si chiama il fiat supremo con il termine fiat fiat vuol dire si faccia sia fatto voi sapete che si dice in teologia che alla Divina a Dio basta volere basta un atto intenzionale della sua volontà perché quella cosa sia fatta d'accordo ed ecco perché il primo fiat è il fiat creante il fiat della creazione come abbiamo visto Dio a un certo punto decide di dar vita alla creazione e pronuncia il suo personale fiat fuori di sé dicendo Dio disse libro della Genesi fiat lux sia la luce e la luce fu e da questo fiat prese origine tutta la creazione avente come vertice l'uomo ora che cosa ha creato a fare Dio perché la domanda dei teologi sono sempre posta era obbligato Dio a creare qualcosa fuori di sé assolutamente no sapete perché Dio ha creato Dio ha creato tutto l'universo in vista di noi e in vista del suo gioiello in vista del suo capolavoro ci sono dei passi bellissimi degli scritti di Luisa che parlano veramente dell'uomo come la sua statua perfetta il suo gioiello preferito d'accordo cioè che mostrano e questo vedremo nella terza parte io cercherò di ritrovare qualche brano perché è qualcosa di stupendo cioè che mostrano quanto l'uomo sia misteriosamente ma anche intensamente immensamente infinitamente appassionatamente perdutamente non ci sono termini amato da Dio cioè chi capisce qualcosa delle liberazioni sulla divina volontà quando sentirà la frase che purtroppo diventa trita e ritrita a volte Dio ti ama Dio amore eccetera eccetera Dio dice ah sì oh che bello che Dio amore quindi se Dio amore è bene posso fare tutto quello che mi pare tanto andiamo tutti in paradiso ecco che questa è la caricatura è la macchietta diciamo così è la proprio banalizzazione semi blasfema ecco sarei dire dell'amore di Dio ma quando si capirà bene si vedranno bene alcune cose io personalmente io sono rimasto essere refatto cioè quando io mi penso e così come questo discorso può fare chiunque mi sta ascoltando parlo di me perché ciascuno di noi capite è un'individualità unica che si trova davanti al Signore cioè noi siamo un unicum no io mi trovo davanti a Lui e dico Signore mio ma tu ami me in questo modo ma veramente mi vuoi cioè capito ti ama ma ti vuole capito ti vuole per sé vuole il tuo amore non è soltanto un amore che te lo fa capire e percepire ti parla di amore dappertutto perché l'incontro con la divina volontà non sarà altro che un incontro con il canto ininterrotto d'amore percepito come tale finalmente scoperto come tale che Dio ininterrottamente ci canta dalla mattina alla sera di notte di giorno sveglio cosciente inconsciente dormiente dolorante tutto quello che ti pare e uno rimane veramente fuori di sé ma io chi sono ma che ho fatto che c'ho magari sono un grande peccatore sono un povero insomma soltanto imperfetto ho combinato un sacco di guai dico ma che c'è fai con me mistero ma Dio è mi si perdoni il termine innamorato della sua creatura cioè se uno vedesse due innamorati umani persi quello è proprio perso ha preso proprio una sveglia si diceva tra noi giovani non è niente in confronto a quello che è Dio per noi non è niente perché Dio non era assolutamente obbligato a creare un bel niente ha creato tutto quindi tutto il creato tutte le stelle tutto il sole ci pensate che è creato soltanto per noi è un diamine interrotto di Dio per noi e l'uomo di questo non è minimamente consapevole quindi già vi preannuncio che comprendere entrare nel regno del divino volere sarà conoscere ma conoscere non in senso intellettuale ma conoscere in senso biblico voi sapete conoscere in senso biblico adesso mi si perdoni non voglio sembrare conoscere in senso biblico quando la Madonna disse all'Arcangelo Gabriele non conosco uomo come non conosce uomo San Giuseppe lo conosceva secondo la nostra accezione di conoscere erano già fidanzati gli mancava soltanto andare a vivere insieme ma conoscere è in senso biblico perché conoscere vuol dire avere un rapporto d'amore così intenso da comportare anche il fatto che due un uomo e una donna diventino una sola carne quindi un'intimità talmente grande che raggiunge anche quella forma particolare di unione poi unione che si raggiunge nello stato di natura decaduta ma che comunque può essere diciamo trasformata c'è anche in sacramento il linguaggio d'amore da fare veramente di due una cosa sono cosa c'è di più intimo è che raggiungere insomma una cosa del genere no allora attenzione che capite bene nel senso cioè conoscere Dio in senso biblico i mistici e i santi ce lo raccontano vuol dire conoscerlo in questo modo state attenti non facciamo traslazioni strane perché non c'è niente come dire che riguarda la sessualità che riguarda il mondo dei rapporti con Dio però siamo nell'orizzonte di un amore profondo intenso partecipato vissuto conosciuto percepito capite non è che tu devi fare come quelli che si mettono ah io sì Dio mi ama adesso me devo me devo convince me devo e te lo ripeto tutto il giorno ah sì però Dio mi ama capite è un processo mentale intellettuale cioè che tu ti senti che la vita fa schifo è un disastro non te ne va dritta una però nonostante tutto Dio ti ama da qualche parte in qualche modo sarà vero lo dicono tutti insomma quindi e uno si convince Dio mi ama però l'amore di Dio non lo vedi da nessuna parte Dio ti ama dimmi un po' dove lo vedi che Dio ti ama boh ecco no quindi non è una percezione dell'amore di Dio fatta in questo modo è una percezione vitale viva esperienziale se vogliamo oggi si parla tanto di di queste cose e per certi aspetti intima profonda è incomunicabile d'accordo vedremo che la vita nella divina volontà non ha nulla di esteriore d'accordo niente nulla di appariscente è qualche cosa che si vive profondamente veramente intensamente nell'ambito di un rapporto personale tra l'anima e Dio è chiaro che questo rapporto personale come vedremo non è un intimismo non è un mi faccio il mio il mio mondo divino e me ne infischio di tutti quanti ma è un una divinizzazione della persona che abbraccia non soltanto tutta la chiesa abbraccia tutta l'umanità abbraccia tutto l'universo riverbera bene a beneficio di tutti come vedremo quindi è qualche cosa di di meraviglioso no di molto molto mariano ecco perché la madonna che è stata il primo la prima a vivere questo 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 mondo come pura creatura non sappiamo che la la madonna è la creatura più divina che esiste d'accordo e dire più più divina che esiste è dire poco io la chiamo la divina maria seguendo san luigi monforto che è stato il primo ad adoperare questo questo termine divina appunto perché non dea ma completamente divinizzata capito quindi non 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 dio per natura la madonna è una creatura ma è completamente divinizzata eppure se uno incontrava la madonna nazareth come dire incontrava una incontrava una una donna una donna che parlava una donna che sorrideva una donna che faceva le cose comuni una donna che riassettava la casa la teneva ordinata una donna che faceva il pane al forno una donna che faceva i vestiti a san giuseppe e a gesù una donna che usciva e curava l'orto tale che portava le piante quindi non è che abbiamo un essere raggiungibile che stanno una sorta di etereo iperuraneo d'accordo è sempre presente che la cifra oggi va di moda con questo termine dell'autenticità di un vero e profondo rapporto con Dio è proprio la capacità di svolgere in maniera perfetta le comuni mansioni e doveri in cui siamo immersi e tra l'altro la non appariscenza il non attrarre l'attenzione tutte caratteristiche che sono il connotato diciamo intrinseco di quella che era la vita e la straordinaria santità della madonna quindi il fiat creante il fiat creante nel regno della divina volontà lo vedremo poi dobbiamo avere chiari questi concetti perché sennò poi quando ci introduciamo a vedere un pochino questo regno della divina volontà quali sono i requisiti per entrarci e poi come ci si muove al suo interno vedremo per esempio quando parliamo dei giri nella creazione quando parliamo se uno non capisce bene non ha chiaro già che la creazione è il primo luogo di manifestazione della divina volontà e quindi il primo luogo di concentrazione estrema del mistero di Dio amore per noi e quindi la vita nella divina volontà tra i suoi diciamo così compiti ha quello di introdurci quindi di cominciare a fare un rapporto differente con la creazione non rapporto alla WWF o a cose di questo genere no ecco per diventare ambientalisti o ecologisti perché idolatri diciamo così oppure affascinati dalla da quanto è caruccio il panda o queste altre cose qui no queste per carità sono cose che chi vuole fare purché non non esageri che poi ecco dice quanto è caruccio il panda non ammazziamo le fuoche poi firma per l'aborto andando a fare queste queste pazzie no però per noi è una cosa molto molto più profonda capite è un po' come cioè riscoprire il rapporto con il fiat creante e quindi un rapporto santo con il creato sapete che il papa c'è anche scritto un'enciclica insomma sulla salvaguardia del creato però è come il nostro servizio ai poveri no Santa Teresa di Calcutta si serviva ai poveri d'accordo però capite ci sono tutta questa serie di cose servizi ai poveri è una cosa che sta a cuore anche ad alcuni laici d'accordo anche i comunisti dicevano che volevano aiutare i poveri e volevano riscattare la classe operaia dico quindi vedete ci sono delle cose allora che noi siamo comunisti oppure che noi siamo laici e che vogliamo salvaguardare il creato in maniera panteistica come dicono no no non è esattamente la stessa cioè ci può anche essere un'identità di operazioni ma una diversità immensa di motivazioni e di finalità Santa Teresa di Calcutta diceva io vado a prendere gli ultimi degli ultimi perché Gesù ha detto queste parole avevo fame e mi avevo da mangiare avevo sede eccetera eccetera ogni volta che avete fatto una di queste cose al più piccolo di questi miei fratelli l'avete fatta a me quindi io con tutto il rispetto per gli esseri umani in ogni è come dire straccio di uomo marridotto derelitto vedo Gesù crocifisso e ciò che mi muove a farlo è l'amore a Gesù crocifisso e io amando quell'uomo amo Gesù crocifisso curo le sue piaghe astergo le sue lacrime e per questo lo faccio poi che la società umana sia contenta perché c'è qualcuno che risolve il problema dei poveri dei barboni questi sono affari loro d'accordo non ci interessa d'accordo così se come si chiamano quelli che stanno facendo gli accordi sul clima e tutto quello che vogliono sono contenti che il Papa ha fatto l'enciclica sul clima sono affari loro però per esempio la nostra salvaguardia del creato cristiana cattolica non è certamente motivata da come dire da da motivazioni ripeto pseudopanteistiche oppure perché questo creato sia una sorta di divinità sestante capito assolutamente ecco il creato però è una manifestazione dell'amore di Dio verso di noi è un dono che va accolto riconosciuto quindi va custodito cioè non va bistrattato e maltrattato ma non capite per amore del creatore perché io attraverso la mia disposta di amore sano e santo al creato rispondo al ti amo che Dio ha depositato in ogni creatura e nel creato stesso capite quindi c'è sempre attenzione a queste non sono qui squiglie questi qui oppure sofismi o robe di questo genere no assolutamente non sono cose di questo genere noi abbiamo delle motivazioni molto molto profonde in quello che facciamo no e in quello in cui operiamo quindi questo per quanto riguarda del fiat creante o poi è è uno spettacolo quello che Gesù dice dice abbiamo il fiat possiamo chiamarlo il fiat o il fiat lux d'accordo il fiat creante quindi questo è un fiat divino l'ha pronunciato la Santissima Trinità senza nessun tipo di concorso con le creature d'accordo poi c'è il fiat redimente il fiat redimente ha la sua origine sempre nella Santissima Trinità d'accordo se uno va a leggere delle pagine spettacolari dei padri della Chiesa bellissime che fanno che mostrano come la Santissima Trinità evidentemente aveva già previsto tutto il disastro che sarebbe successo quindi il peccato originale degli angeli ribelli e quindi poi degli uomini e quindi aveva prima ancora di procedere alla creazione addirittura degli angeli aveva già predisposto lo strumento per la redenzione della parte di creazione intelligente redimibile perché gli angeli non sono redimibili gli uomini sì e quindi era già pronta la croce per il figlio di Dio incarnato e prima ancora di procedere alla creazione il verbo pronunciò il suo fiat dinanzi al padre dicendo sì sì io non soltanto diventerò uomo ma io soffrirò per riscattare l'uomo dalla sua condizione decaduta quindi il fiat redimente ha anch'esso la sua origine suprema in Dio perché è il fiat del verbo d'accordo potremmo dire che il fiat creante lo possiamo attribuire al padre anche se è un fiat che coinvolge tutte e tre le persone divine lo diciamo anche nel credo credo in Dio padre onipotente creatore del cielo e della terra in teologia questa cosa si chiama attribuzione cioè si attribuisce ad una delle persone divine per convenienza un'operazione che è comunque di tutta la Santissima Trinità così il fiat redimente lo si attribuisce al figlio perché è soltanto il figlio che si è incarnato ma è chiaro che il progetto dell'incarnazione e della redenzione è un progetto che sarà decisa congiuntamente da tutte le persone della Santissima Trinità solo che questo progetto coinvolgeva una creatura purissima che è quello che ha fatto saltare a quanto dicono altri autori il sistema nervoso se mi si passi questa espressione che ha fatto molto arrabbiare Lucifero è stata la causa o meglio la concausa quantomeno della sua caduta la Divina Maria che era una creatura membro puro della razza umana che era diciamo così doveva essere coinvolto in questo in questo in questo processo per ragioni di convenienza perché il distacco dalla Divina Volontà operatosi nell'Eden avvenne a partire dalla donna e coinvolgente l'uomo e quindi Dio non fa mai nulla a caso qui ci volevano due rappresentanti puri della razza umana e tra l'altro il capostipite uomo come uomo fu Adamo della nuova creazione doveva anche avere una dignità divina perché doveva portarsi il peso infinito dei peccati di tutta l'umanità ed anche offrire una riparazione infinita all'infinito soggetto offeso dal peccato che è Dio ecco perché l'uomo Dio però si passa attraverso il fiat di una creatura pura rappresentante perfetto immacolato della razza umana noi non abbiamo idea della portento della potenza della forza della carica santificante che ebbero le parole fiat mici che la divina Maria pronunziò dinanzi a San Gabriele ci sono stati dei grandi santi io essendo un'anima un po' mariana sono molto devoto di San Bernardo che ha scritto delle pagine stupende sulla Madonna ed è bellissimo una predica che fece in occasione dell'annunciazione che lui immagina il mondo prostrato d'accordo ai piedi della della Madonna ai piedi dell'annunciata che sta aspettando che pende dalle sue labbra dice Maria fa qualcosa guarda che da come rispondi tu siamo morti o siamo vivi bellissima il signore andava a rileggere quella quell'omelia quindi qualcuno dei santi diciamo così in chiave poetica delicata veramente bella ha reso diciamo così in termini sublimi affascinanti la portata immensa del Fiat Miki della Madonna ma io ritengo che senza una particolare grazia dello Spirito Santo illuminazione divina il portento che fu il Fiat Miki non è penetrabile dalla nostra mente umana neanche è illuminata dalla grazia santificante tant'è vero che qui Gesù dice e spiega la forza di questo Fiat Miki e lo fa perché è consapevole che noi non ci rendiamo conto sentite riprendiamo questi passaggi commentandoli dal Fiat Miki della mia mamma detto nel mio volere che ebbe la stessa potenza del mio Fiat uscì la redenzione attenzione che ebbe la stessa potenza del mio Fiat capite è una cosa grossa sicché non c'è cosa nella redenzione che non contenga l'impronta del Fiat Miki voi sapete che sono anni che c'è un dibattito teologico adesso un po' quiescente perché pare che abbiano vinto i minimalisti diciamo così teso a riconoscere nella Madonna una vera corredentrice dell'umanità in senso forte capite sappiamo anche l'ho scritto è un è un è un dato storico che durante le apparizioni in Olanda ad Amsterdam la Madonna apparizioni riconosciute dalla Chiesa la Madonna ha chiesto formalmente alla Chiesa Cattolica la proclamazione del quinto dogma mariano ce ne sono quattro fino adesso che è quella della corredentrice dell'umanità mediatrice di ogni grazia e avvocata dell'umanità ora se uno fa attenzione a queste parole non c'è cosa nella redenzione che non contenga l'impronta del Fiat Miki già basterebbe prendere atto di questa frase cioè tutta la redenzione contiene l'impronta del Fiat Miki quindi già in quella risposta ed è verissimo la Madonna assunse il titolo di corredentrice perché noi pensiamo a come dire all'annunciazione e lo è come a un mistero di immenso gaudio e lo è d'accordo lo è perché l'estasi provata dalla Divina Maria al momento dell'incarnazione del Figlio di Dio è per la grande gioia delle anime mariane suo gaudio unico ineffabile incomunicabile e indescrivibile e se l'è goduto grazie a Dio soltanto lei però insieme al gaudio ci fu anche un dolore grande capite perché dire Fiat Michi a dare la carne al Redentore voleva dire essere inevitabilmente associata alle sofferenze del Redentore e dover già dire addio e un addio doloroso a colui che sarebbe stata la delizia unica e totale del suo cuore capite quante volte la Madonna ha dovuto offrire poi Gesù per noi tante volte l'episodio dello smarrimento di Gesù nel Tempio fu soltanto un prodromo come dire un campanello pensiamo quando Gesù è partito per la vita pubblica il distacco dalla Madonna o quando ha preso commiato da lei la sera del Giovedì Santo terribili scene o anche quando è asceso al cielo tutte queste offerte che la Madonna ha fatto in maniera assolutamente eroica quindi e Gesù dice continua l'umanità i passi le opere e le parole della mia umanità sono suggerate dal Fiat Miki le pene le piaghe le spine la croce il sangue portano l'impronta del Fiat Miki tutto il mio operato porta il Signore del suo Fiat Miki l'ostia sacramentale porta il Signore del suo Fiat Miki quando facciamo la comunione non ci pensiamo San Luigi Monfort dice qual è la frase che devi ripetere appena ricevi la comunione io lo faccio sempre lo confesso ecce ancilladomini Fiat Miki secondo un verbo perché perché si ritorna perché tu stai ricevendo la comunione perché il verbo si è fatto carne ma il verbo si è fatto carne al Fiat Miki di Maria il verbo viene a farsi carne in te perché in un certo modo questo succede con la Santa Comunione perché per farti lui cioè per far di te una coppia vivente di colui che come sua madre ha messo in tutto in pratica la Divina Volontà ecco perché Fiat Miki d'accordo perché si ritrova in quella frase l'origine e il compimento capite quindi è stata un'operazione portentosa e noi siamo gravemente tenuti ecco se non per amore ad una creatura così amabile come la Madonna ma per dovere di grave giustizia capite ad essere sommamente grati alla Madonna cioè noi non abbiamo cioè la Madonna si è trovata nella sua individualice facciamo così il rapporto che noi abbiamo con Dio a titolo personale è personale cioè io adesso tra poco finisco la catechesi andrò a celebrare la Santa Messa mi troverò dinanzi a Gesù che ho appena consacrato cioè il mio relazionarmi con Gesù è personale cioè il modo con cui io faccio l'adorazione è personale il modo con cui io parlo con Dio è personale cioè è mio so io capite io non so come ci parlano gli altri d'accordo e non ci posso neanche entrare nei elementi delle altre persone so come ci sto io e tutti noi dobbiamo assolutamente nel regno della divina volontà questo è un passaggio fondamentalissimo cioè comprendere che c'è un rapporto personalissimo con Gesù e con Dio allora lì la Madonna al momento dell'annunciazione si è trovata con la sua personalità propria capite libera responsabile relazionantesi con Dio che gli ha chiesto delicatamente liberamente un consenso capite e lei ha fatto come sempre faceva il top però capite questa creatura è una persona capite è una persona che ha un cuore divino bellissimo capite e e che ci ha fatto un bene enorme capite che dire un bene enorme è dire niente capite cioè voi pensate che voci di diavoli che sono quelli che osano bestemmiare il nome della della Madonna cioè che è l'urlo che fa gongolare l'inferno guardate che è più satanico bestemmiare la Madonna perché l'odio di Satana è più grande verso Maria che verso Dio non perché la Madonna sia più grande di Dio ma perché ecco lui è diventato furibondo quando vedeva appunto la grandezza di questa creatura che sarebbe diventata per la sua impressionante santità tale da e saperli da renderla in grado insomma di diventare la madre di Dio proiettata al di fuori al di sopra degli angeli lui è diventato una belva per questo per questo motivo io personalmente non è che sono felice che la Madonna sia sopra degli angeli se potessano ancora di più mi piacerebbe ancora di più d'accordo e come hanno detto tanti santi io lo dico tranquillamente senza nessuna vergogna se la mia vita d'accordo valesse un solo gaudio in più per la Madonna ma se la prenda subito d'accordo capite perché la mia gratitudine la mia personale gratitudine verso questa che ho da infinita capite c'era lei c'era lei ed è grazie a lei che questo suo Fiat Miki ha attraversato tutte le opere che poi il figlio ha compiuto nella redenzione cioè noi saremmo ancora nella morte saremmo ancora nel peccato non saremmo stati redenti avremmo chiuso le porte del cielo se allora morissi non ci sarebbe nessuna speranza cioè capite e questo è tutto quanto dipendente dal Fiat Miki per cui questa creatura grazie a te lo dobbiamo dire in continuazione ma ecco anche perché non voglio adesso divagare uscire dal dal tema cioè perché vi siete mai chiesti perché il rosario ha tutta questa potenza davanti a Dio quando per esempio c'è la preghiera ufficiale della chiesa che è la liturgia delle ore che è oggettivamente più grande del rosario perché è la preghiera pubblica ufficiale della chiesa è la preghiera liturgica la preghiera liturgica non si tocca non esiste nessun atto dice la sacro santo un concilium che uguaglia le azioni liturgiche della chiesa eppure il signore concede tantissime grazie a chi recita il rosario che è una preghiera di origine devozionale non liturgica e come mai perché Dio che è in grado di misurare bene è lui stesso come dire gratifica in un certo senso che ringrazia è grato alla Madonna per quello che ha fatto e per cui per il fatto che la Madonna ha detto quel Fiat e non gli ha mai detto mezzo no lui non gli dice mai di no capite mai di no cioè il rapporto di amore che ha vissuto la Madonna con Dio è qualcosa di impressionante ci hanno fatto a gara nell'accontentarsi a vicenda nel farsi felici a vicenda e questa gara continua capite questa gara continua e la Madonna sempre sarà dinanzi a Dio come dire appena Dio la guarda dice va bene mi dimentico tutto quello che fanno gli uomini basta che guarda te è così è allora dicendo il rosario noi passiamo per Maria ci pieghiamo in qualche modo riconosciamo la sua mediazione riconosciamo la sua grandezza perché ogni volta che diciamo l'Ave Maria lo diamo la Madonna lo diamo Gesù come frutto del suo seno e chiediamo alla Madonna di pregare per noi e se la Madonna prega per noi grazia sarà se prego io ma perché nostro Signore dovrebbe stare ad ascoltare a me se qualcuno si sente colpito lasci perdere parliamo di me Don Leonardo perché dovrebbe stare ad ascoltare a me non c'è nessun motivo perché dovrebbe stare ad ascoltare a me che sono un po' romo figlio di Adamo e peccatore d'accordo peccatore almeno in potenza e può darsi anche che in passato lo sia stato in atto insomma perché dovrebbe stare ad ascoltare a me ma la Madonna no la Madonna non si tocca capite ecco quindi questo è dobbiamo comprenderlo questo qui dobbiamo comprenderlo perché vedremo nel Fia Santificante come la Divina Maria è l'imperatrice del Regno della Divina Volontà è la primogenita è colei che per prima ha abitato questo mondo dopo Adamo e Eva che ci si erano affacciati che ci hanno vissuto un certo tempo dopodiché sono usciti fuori per non rientrarvi mai più colei che è entrato che ci ha abitato e che ha portato in cielo con la sua assunzione un'anima affusa con la Divina Volontà è stata la Madonna nessun altro di fuori di lei nessuno nessuno neanche Luisa come vedremo perché Luisa che è stata adesso lo vedremo al termine di queste considerazioni di oggi la pioniera del Fiat Santificante la prima però Luisa è stata forgiata lo cominceremo vedere la prossima volta perché Luisa c'era il peccato originale non era immacolata quindi non ha vissuto tutta la vita nel Fiat Supremo non l'ha vissuta e ha vissuto una parte una buona parte della sua vita in interrottamento unita alla Divina Volontà da quando ha ricevuto il dono dal cielo come vedremo ma non tutta la vita Luisa è morta è passata per per la morte no? il suo corpo che è stato riesumato in occasione dell'apertura del processo di beatificazione ha subito in parte il processo della corruzione quindi nessuno mai fu e mai sarà come la Madonna questo dobbiamo metterci bene in testa molto bene in testa evitando ogni forma di minimalismo certamente evitando ogni forma di indebita esaltazione fuori luogo e impropria o eretica della Madonna cose che purtroppo nel corso della storia aizzate dal demonio sono state fatte perché così uno esagerando poi la minimizza e la abbassa questi sono vecchi trucchi insomma di quella serpe infernale malefica ecco però dobbiamo restituire a questa creatura la grandezza che merita quindi questo per quanto riguarda il Fiat Criante ora c'è il Fiat Santificante il Fiat Santificante quindi abbiamo il Fiat Lux il Fiat Michi e poi abbiamo il Fiat Voluntas Tu Sicutincere in terra questa preghiera non è altro che sia fatta la tua volontà cominciare in terra la diciamo tutti i giorni quindi capite che da quando Gesù ha insegnato il Padre Nostro comincia ad aprirsi questo processo come vedremo la prossima volta la prima tappa di attuazione che ha avuto e che deve avere anche per chi desidera poi entrare nel regno della Divina Volontà che è il compimento pieno come spiegano dell'opera della retenzione il pieno compimento è un po' come il rapporto tra l'Antico e il Nuovo Testamento quando Gesù dice io non sono venuto ad abolire a dare perfetto compimento quindi ribadisco tutto e ti porto più oltre ecco il regno della Divina Volontà presuppone lo sforzo di fare la volontà di Dio dopo averla conosciuta che è quello che hanno fatto tutti quanti i santi fino ad oggi ne abbiamo già parlato più andare oltre ma andare oltre quindi entrare in un regno completamente divino quindi capite cioè possiamo fare un piccolo prequel d'accordo entrare nel regno della Divina Volontà vuol dire che il perfetto compimento di questo è che non c'è una minima mia azione che non sia compiuta in unione con il Divino Volere allora voi capite che se io ogni tanto dico una bugia di scusa non esiste una cosa di questo genere capite cioè nel regno della Divina Volontà di peccato non si parla proprio più capite non si parla non è che non c'entra non si parla proprio meno che mai di di peccato volontario è chiaro che se io ho l'abitudine di dire le bugie non è che questa mi passa in automatico io devo lavorare me la devo togliere questa brutta abitudine d'accordo e fare quello che hanno fatto tutti i santi fino a oggi tagliarmi la lingua piuttosto che dire una bugia di scusa capite punto non ci stanno altri sistemi non è che ci stanno scorciatoie d'accordo non ci sono così come fare i conti lo vedremo poi con la vita nostra entrare bene dentro noi stessi ricordo le catechesi che a suo tempo feci chi sono io per poter amare in verità per poter amare tutto quel processo di conoscenza di noi stessi di comprensione della verità delle nostre disposizioni intenzioni tutte le balle che ci raccontiamo eccetera eccetera mica 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 si salta eh cioè adesso io entro nel regno di involere vado in un mondo divino e questa roba me la lascia alle spalle non ho questa roba te la porti dietro e stai tranquillo che Dio non si unisce ad un'anima che perché è profondamente ingannata nelle opere di bene che fa per esempio cerca se stessa e non la gloria di Dio cerca la gratificazione delle creature e non la gloria di Dio solo non esiste proprio capito non c'è non capite quindi il fiaz santificante è che cos'è è la trasmission è la restituzione di ciò che Adamo aveva prima della caduta il dono di poter vivere unito in tutto alla divina volontà è chiaro che Adamo aveva questo dono come condizione di partenza quindi se l'ha già ritrovato ed era un dono che poteva avere perché perché era immacolato noi no noi purtroppo non è per noi la condizione di partenza per noi è il punto d'arrivo e ci sono voluti duemila anni anzitutto e Gesù lo spiega negli scritti lo vedremo nella terza parte se si riesca a ritrovarli tutti quanti dice in questi duemila anni a me mi sono serviti perché in duemila anni di sacrifici dei martiri gli eroismi dei santi si sono create le condizioni per cui io anzitutto potessi parlare rivelare agli uomini cosa hanno perduto e a cosa io voglio portarli capito a partire dall'esperienza personale e mistica di Luisa Piccarreta ecco però per noi questo è un punto d'arrivo vedremo la prossima volta cioè un punto d'arrivo che prende delle tappe ben precise e nessuna di queste può essere bypassata cioè io vado vum in cielo capite con un concord che mi fa come dire evitare la fatica di prendere quota piano 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 salendo e arrivando poi gradualmente alla meta questo ce lo scordiamo e lo dico perché già ho avuto modo insomma nella piccola esperienza che ho avuto nei contatti che ho avuto con le persone nei dialoghi ho avuti anche con persone molto più grandi e molto più esperte di me e molto più dentro di me in questo mondo ho avuto modo di confrontarmi di ascoltare soprattutto e di rendermi conto che non si può e non ci si deve accostare ad una cosa tanto grande in maniera semplicistica e facilona come dico io è una cosa stupenda bellissima di cui da abbastanza presto se uno ha già fatto delle scelte forti di vita si possono cominciare a percepire e godere i benefici ecco però è un cammino è un cammino che ha delle tappe e che ha come punto d'arrivo la fusione con la divina volontà la fusione cercata e ricercata e la fusione avviene in maniera perfetta poi quando il dono viene comunicato e perfezionato in maniera mistica da Dio come ha avuto noi speriamo di arrivarci tutti quanti ecco è evidente che per avere doni di questo genere dobbiamo essere ben disposti quindi questo terzo fiat che sarà il perfezionamento quindi l'opera della redenzione ha avuto come primo frutto il perdono dei peccati e la grazia santificante ci mancano ancora qualcosa i doni che aveva d'amo no? i doni preternaturali non ce li possiamo avere quindi l'immunità dalla morte corporale non la possiamo avere vedremo che si può sperare ecco di avere qualche dono divino per quanto riguarda le malattie vedete io ho tutto quanto raffreddato infreddolito quindi sto ancora lontano dal vivere perfettamente nella divina volontà perdonatemi questa battuta sulla concubiscenza ci si può pensare ecco ma sicuramente tutti quanti moriremo la scienza infusa non è necessariamente contenuta nella dote della divina volontà ecco però l'unione con la divina volontà ed uno stato di amicizia e di amore profondo con Dio sono proprio i doni di questo di questo regno sono i doni e quindi la possibilità di vivere una vita sulla terra non solo santa ma felice riscoprendo e vivendo un rapporto con Dio con Gesù con la Madonna di amore profondissimo e intensissimo in tutto questo non vuol dire attenzione anche qui alle facili illusioni ah che bello finite le croci no no non sono finite manco per niente le croci ma le croci saranno vissute come segni come manifestazioni dell'amore di Dio verso di noi e come gioielli supremi del divino volere a noi consegnati ecco a questo ci si arriva piano piano dalla prossima volta con l'aiuto del Signore cominceremo ad entrare in questo via il santificante quindi vedremo un attimo cosa ha fatto brevemente Gesù con Luisa quindi come e quando l'ha portata a vivere questo dono e dopodiché come ci si entra come ci si prepara e poi alcuni atti alcune modalità diciamo così di pregare di fare di operare che sono proprie del regno della divina volontà che noi possiamo comunque già ad adesso cominciare ad imparare e anche a praticare sapendo però che il punto forte il punto su cui devono cascare tutti quanti i nostri asinelli è quello del cominciare a fare la divina volontà sul serio in tutto e per tutto tendendo ad una perfezione assoluta perché la volontà di Dio è perfezione assoluta d'accordo senza false modestie senza false umiltà senza neanche illusioni ecco ma con una certa chiarezza ecco mentale e anche poi comportamentale con l'idea di Dio vedremo tutto questo a partire dalla prossima puntata io vi do la mia benedizione vi ringrazio per essere stati presenti e in ascolto alla prossima settimana Ave Maria grazie a tutti grazie a tutti